Spettacoli, festival dei corti, incontri, mostre, dibattiti, confronti a tutto tondo, enogastronomia e contaminazione che ruotano attorno al tema dell'immigrazione e dell'accoglienza. Questa è la sesta edizione del Calabria Teatro Festival organizzato dall'Associazione Culturale Corea 2000 in programma a Castrovilleri da 10 al 16 ottobre. Più che l'immigrazione forse parlare di accoglienza, senso e spirito di accoglienza. Noi come operatori culturali abbiamo il dovere morale, etico e poi ce lo impone il nostro mestiere di dare delle opportunità e degli spunti di riflessione. E il Calabria Teatro Festival, festival di teatro civile, ha questa esigenza oggi. Un festival che è diventato ormai patrimonio culturale della città anche per la sua sensibilità magistrale. Per il nostro territorio rappresenta sicuramente un elemento di crescita, di arricchimento da un punto di vista sociale e culturale. Io credo e sono pienamente convinta di questo che la cultura sia un elemento portante della società perché attraverso la cultura si può far crescere oltre che da un punto di vista sociale anche economico il territorio. Un festival ricco di tanti appuntamenti e con un forte impatto turistico-economico, ha spiegato Angela Miceli, con oltre 60 artisti che soggiorneranno nelle strutture ricettive della città con una particolare attenzione ai bambini e ai giovani. E' uno speciale ricordo dedicato ad Enzo Tortora, ma soprattutto un festival contemporaneo perché dedicato ad una tematica come l'immigrazione. Questo è un fenomeno che va governato, che non deve essere più un momento di emergenza ma deve passare nell'ordinario. L'ordinarietà significa vita normale, quello che facciamo noi quotidianamente, le nostre azioni devono essere quelle che fanno gli immigrati. E da questo punto di vista molto importante è l'integrazione. L'integrazione passa anche attraverso i momenti culturali come questo. Il festival che vede la direzione artistica di Rossi Parrotte e la direzione organizzativa di Angela Miceli è entrata a pieno titolo nella lista dei grandi eventi culturali finanziati dal Parco Nazionale del Pollino. Noi l'abbiamo testata negli anni passati, abbiamo voluto capire fino in fondo la qualità organizzativa, l'efficienza, gli ospiti che arrivano da fuori. E devo dire che adesso Corea 2000 ha messo su una bellissima manifestazione che merita tutto il nostro sostegno come abbiamo fatto. L'evento è partito ufficialmente con lo spettacolo La Ballata del Circo Perduto del Teatro Alchemico al quale è stato assegnato il premio Frontiera Per Te. Sono sette giorni di spettacoli, diciotto spettacoli compreso quello della conferenza stampa di questa mattina in cartellone, tre serate dedicate venerdì, sabato e domenica al Festival del Teatro dei Corti Teatrali. E poi abbiamo mostre d'arte, di tanti laboratori, sì tante novità, il servizio navetta, i ragazzi delle scuole che sono coinvolti nel giornalino del Calabria Teatro Festival e tante novità da scoprire. Parla chiaro l'immagine guida dell'edizione 2016 del Festival, due bambini Jacopo e Kevin, l'uno italiano, l'altro ospite dello SPAR di San Basile, che giocano insieme con le barchette di carta in una tinozza con lo sguardo carico di speranza lontani da ogni pregiudizio.